Ora Hackett, doppio blocco per lui, il ribaltamento per Wims, ancora palla profonda per Mamjaité che va a sigillare Mejeris, ancora spazzatura un po' rivedibili per la WL, ecco il blocco di Jones che libera Delpino, palleggio arresto e tiro perché la Virtus è rientrata con tutti i suoi giocatori, invece prende il fondo contro Cenghelia, l'apertura per Delphino di tocco alla grande per il taglio centrale, Cenghelia chiusa da Demetrio, torna fuori da Teodotic che è caldissimo e segna anche questa, quarta tripla e riparte Fesero con Delphino, palleggio aperto contro Bellinelli, alzata per Terry Jones che va a inchiodare, poi Demetrio con una tabellata però rimasto offensivo, riparte la Virtus in velocità con Samson, gioco di prestigio contro Tambone, Herbie finta l'extrapass, eccolo per Magnon, la schiacciata per Samson, azione questa bellissima, può ripartire la WL con Delphino, buon rientro per Bologna, forza Delphino e porta sotto canestro Paiola, va nel mezzo angolo da Jaité, poi cerca e trova Hackett, ben ribaltamento che mette il ritmo, tocco Cenghelia e la Virtus preferisce ragionare affidandosi ancora allo stesso ex Cesca che scambia con Wims, palleggio, arresto, tiro in faccia a Leonardo Demetrio dai 5 metri, ribaltamento per Meieris, ancora Delphino in palleggio contro Cenghelia, passaggio anticipato, ancora Hackett che riesce a tuffarsi, poi l'assist di Wims ha una mano per la fondata di Tocco Cenghelia, davvero dextralusso con Hackett in questi minuti, ecco il blocco di Jones per provare a innescare Lamb, questo è il suo tiro e dopo tanti errori si sblocca, palla skip per Donald Lamb che va in punta, Razzanotti non si pende il tiro, preferisce sfidare di fisico, invece Mamgetti Delfino torna fuori, lo stesso Jones, il consegnato per Moretti che si spaccia con lo step laterale, segna con il fallo speso da Nico Magnon contro Delfino, tre minuti abbondanti di siccità per Bologna e intanto Demetrio batte un colpo anche lui e adesso è 12 a 0 per la Carpegna Prosciutto che è ritornata a meno 10 dimezzando lo svantaggio, tanto spazio per Magnon, questa è una tripla importantissima per ridare fiducia contro Magnon, riparte la Virtus con Hervey, campalla per Samson Magnon che arriva al ferro, la schiaccia dentro, più 21 per la Virtus e Magnon adesso che vada a morire qua con la palla in mano, il successo della Virtus, il tredicesimo in fila